Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, buon primo maggio a tutti, oggi è festa, giornata di relax e quindi facciamo un video relax, non dalla macchina ma da casa oggi, belli tranquilli prima di iniziare con il video ragazzi volevo ringraziare Socios.com che è sponsor e partner di questo canale e se non lo conoscete vi consiglio di scoprirlo, perché? Perché Socios.com premia la vostra passione di tifosi e diciamola eleva l'ennesima potenza, perché? Perché attraverso i fan token, che sono dei beni digitali generati dall'app voi potrete riscattare un sacco di premi assurdi come appunto assistere le partite in zone VIP dello stadio conoscere i giocatori, avere accesso a merchandising esclusivo e anche partecipare e votare a delle decisioni importanti della propria squadra come la modifica del logo, una nuova maglia, la canzone da mettere allo stadio dopo i gol insomma tutte queste chicche che se siete dei veri tifosi rossoneri ovviamente vi potrebbero molto 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 far piacere quindi vi consiglio di cliccare nel link che vi lascio in descrizione e andarvi subito a scaricare l'app che è gratuita detto questo ragazzi, allora in questi giorni insomma l'argomento che tiene Banco è sempre quello allenatore quindi è inutile anche star lì a inventarsi tanto altro, ovviamente la cosa principale che il Milan adesso deve risolvere è un po' quella cosa lì e diciamo mi lascia mi ha fatto fare una riflessione tutto il discorso Lopetegui che poi non sappiamo quanto sarà quanto sia vero, cosa c'è di vero di sicuro sappiamo che con questa società tutto tace sempre e quindi sicuramente poi sapremo a tempo debito però insomma questo periodo lungo dove poi ormai i giochi sono fatti e dove comunque non filtra nessuna voce ufficiale proprio perché come dicevo anche in un altro video non c'è una singola voce ufficiale siamo un po' un agglomerato di personalità non si capisce chi decidere a cosa si diceva che potesse avere un grosso peso Ibra in tutta questa decisione quindi quello ci dava un po' quella piccola speranza che Ibra potesse avere a cuore anche il destino sportivo della nostra squadra e che quindi potesse essere lui il garante di una scelta orientata al successo sportivo poi in realtà Ibra praticamente a parte che rilascia quasi mai dichiarazioni è un po' una sorta di fantasma da quando ha questo ruolo neanche nel Milan ma in Redboard quindi boh non si capisce se sarà lui non sarà lui si dice che lui abbia avuto questo incontro con Conte che spingeva quella candidatura lì ma Furlani non fosse d'accordo per una serie di cose per la personalità troppo ingombrante di Conte Ambrosini ha fatto una dichiarazione dicendo che al Milan serve un allenatore o perlomeno il Milan cerca un allenatore che non vada lì per distruggere per polemizzare per rompere gli schemi ma per tirar fuori il meglio da quello che c'è ok? questo è un po' secondo me poi il profilo che con tanti giri di parole poi ovviamente cercano anche i nostri dirigenti il discorso che se ci pensate però che mi ha fatto un po' riflettere vabbè niente di che ma è il fatto che fondamentalmente la candidatura di Lopetegui sia praticamente da che la davano non dico per quasi ufficiale ma parlavano di giorni caldi addirittura erano uscite le cifre del contratto poi dopodiché è bastata diciamo questa protesta veemente dei tifosi che quasi adesso se ne parla molto meno sembra quasi un po' svanita un po' come candidatura ci sono diverse scuole di pensiero su tutto questo ma di base la cosa se ci pensate assurda cioè o comunque dal quale viene fuori cosa siamo noi adesso proprio anche a livello societario è il fatto che davvero è sembrato che fossero praticamente i tifosi a decidere su una cosa già fatta e se così fosse rappresenterebbe davvero ancora di più la debolezza di questa società che non sapendo che pesci prendere prova a prendere una direzione poi sente tutti dire una cosa diversa e si ferma sarebbe ancora una volta cioè di certo il Milan in questa situazione qua non parlando e non dando neanche una versione dei fatti cioè sarebbe bastato che ne so la dichiarazione di qualcuno che dicesse non c'è mai stata una trattativa per Lopetegui stiamo finendo la stagione con Pioli abbiamo già le idee chiare per il futuro basta spazzavi via ogni dubbio invece il fatto di non dire niente di non farlo alimenta il fatto che poi questa versione non sia troppo lontana dalla realtà che quindi davvero siano stati praticamente i tifosi a fermare tutto per adesso per adesso e questo ti fa capire cioè leggevo Sabatini che diceva lasciatemi dire che col Berlusconi-Gagliani una roba del genere non sarebbe mai successa allora io poi nell'altro video vi ho detto che in realtà secondo me oggi come oggi non puoi non considerare diciamo l'influenza dei social e di quello che dice la gente di quello che è la voce del popolo e il volere comune perché è un asset importante per la tua società perché i tifosi comunque sono il primo asset per una società di calcio e quindi non puoi diciamo ignorare totalmente la loro voce già è stato fatto lo scorso anno voglio dire o ti vuoi fare odiare o diciamo che devi comunque mediare quindi su questo discorso qui è ovvio che è un po' sempre un po' relativo certo è che effettivamente in questo caso è sembrato che il potere del vocione della voce grossa dei tifosi fosse fosse anche fin troppo cioè nel senso mi aspetto che comunque a prescindere da quella che sia la scelta e le motivazioni di una scelta sia la società a prendere per mano la situazione e non viceversa però insomma piccola riflessione che ancora una volta ci conferma insomma che non so ci sono tante persone lì ma anche tante persone che probabilmente non hanno mai fatto questo lavoro sono proprio la prima esperienza in un top club e non sanno secondo me cioè spesso volentieri il Milan è mancato tanto proprio anche nella comunicazione a parte qualche banalità detta da Furlani nelle ultime uscite ad Asonno nel post partita con la Juve insomma il Milan anche alla vigilia dei big match o anche dopo i big match o nelle situazioni delicate o nella prima parte di stagione quando Pioli era stato come da me previsto già d'estate abbandonato ai vari Pioli out alle varie critiche che sono piovute non appena iniziato a perdere qualche partita lì la società è stata totalmente assente è stata totalmente assente la società si è ripresentata col suo sostegno quando abbiamo fatto quel filotto di 6-7 vittorie agili in campionato senza più obiettivi né avversari comunque poi è una cosa su cui quando l'ho letto ho detto ma basta ma ci vuole un limite ci vuole un limite anche a questo questa roba qua basta basta anche Sacchi non è che devi per forza dire sempre la tua ti vogliamo bene hai fatto la storia basta però Sacchi sta con Pioli lo confermerei merita rispetto per quello che ha dato questo discorso qua vi giuro è la retorica della retorica perché non tenere Pioli io credo che la sua esperienza al Milan sia tutto sommato positiva ha vinto uno scudetto e la società aveva speso meno delle avversarie che poi andiamo a vedere non è neanche proprio così in quell'occasione aveva stupito forse sì beh oddio prima dello scudetto fino a un certo punto avevamo preso megnanna subito il primo giorno di mercato in quell'occasione aveva stupito tutti divertito il pubblico in questa stagione se tutto va bene si piazza secondo posto in campionato significa che soltanto l'Inter ha fatto meglio Sacchi non hai capito che già ne abbiamo abbastanza di questa retorica e di queste dichiarazioni già fatte da Sportiello da Scaroni basta 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 è un po' quella metafora che vi ho fatto l'altro giorno sul discorso delle storie d'amore cioè non è che tu quando valuti valuti diciamo un rapporto che in questo caso quello di Pioli con il Milan valuti il percorso se valuti il percorso per me per dire l'ultima partita a San Siro io mi auguro che comunque lì non ci sia la protesta ma ci sia semmai un applauso un saluto ci sia calore per Pioli e questo è un discorso ma sono il primo che lo farei cioè io sarei il primo che alla fine dell'ultima partita di Pioli a San Siro mi alzerei in piedi a fare un applauso perché comunque la riconoscenza c'è cioè non è che qui si parla di di non cioè di esserci già dimenticati quello che è successo solo due anni fa ma la riconoscenza però non costruisce calcio non fa calcio non è non è il futuro la riconoscenza è il passato nel calcio purtroppo c'è questo piccolo dettaglio che tu devi sempre guardare dal futuro che quello che hai fatto oggi è già vecchio e purtroppo quando tu valuti il momento e qui torniamo alla metafora cioè non è che tu quando chiudi un rapporto lo chiudi perché andava male prima perché va male adesso perché adesso Pioli è arrivato a un punto in cui non ha più diciamo l'energia e le idee da dare a questa squadra qua è tutto lì le ha avute in passato non le sta avendo in questo momento ma poi c'è anche una sorta di stanca che immagino che come ci sia da parte nostra nel rapporto con noi tifosi ci possa tranquillamente essere anche con il rapporto con alcuni giocatori basti pensare che quest'anno comunque nessuno dei top player diciamo di questa squadra degli uomini più rappresentativi di questa squadra ha mai fatto più di tanto la differenza nei big match spesso nei big match i top player hanno toppato alla grande la prestazione c'è mancata personalità nelle stesse parole di Ambrosini quello che lui dice è al Milan quest'anno una delle cose che è mancata di più è la personalità quindi serve una persona che quando arriva riesce a risvegliare queste personalità qua che dovrebbero essere i trascinatori dello spogliatoio e poi forse sul mercato bisognerebbe andare anche a prendere qualche pedina in più per rafforzare un po' questo concetto perché è evidente che una delle cose che ci manca tanto è la personalità poi fingiamo di non vederlo perché ormai siamo a fine stagione e non ci stiamo giocando nulla ma nel frattempo sono tornati gli infortuni Loftus Cic Meignan Meignan inizia ad essere un grosso punto di domanda cioè io un portiere che ha così tanti infortuni di natura muscolare o quant'altro non me lo ricordo sinceramente cioè non è un giocatore di movimento dove puoi ancora capire giochi ogni tre giorni è un portiere quindi anche lì insomma ecco forse se dovessi proprio fare il discorso di dover sacrificare qualcuno per quanto mi possa dispiacere anche se poi Meignan è comunque uno di quelli che dicono che di personalità ne abbia di più nello spogliatoio quindi poi ci sono tanti tanti discorsi da fare però righi e scherza sono tornati gli infortuni voi immaginatevi che adesso noi ci stavamo giocando magari o dovevamo giocarci a semifinale di Europa League e comunque iniziavi ad andarci senza Loftus Cheek senza Meignan iniziava a girarti un po' le scatole perché per l'ennesima volta nel momento focale della stagione tu non avevi alcuni dei tuoi uomini migliori quindi ragazzi siamo sempre lì io sul discorso allenatore ogni volta poi alla fine mi perdo in vari discorsi e non riesco a fare quello principale ma prima o poi faccio un video dove vi dico sempre se non lo annunciano prima ma di questo passo la vedo dura dove vi dico tra i vari nomi anche quali sono le mie preferenze fermo restando che io sposo in pieno la teoria Conte nel senso che non sto neanche lì a parlare di tatticismi della tattica del perché del come si adatta la rosa semplicemente perché mi dà cioè lui come vi ho detto tante volte rappresenta l'ambizione di vincere non la certezza di vincere ma l'ambizione di chi lo sceglie nel voler vincere però detto questo ci ho sempre creduto un po' poco credo poco anche alle voci che dicono De Zerby perché comunque a meno che non ci sia modo di trattare quella clausola che però poi rischierebbe di diventare una cosa lunga che ti fa perdere tempo e magari perdi anche le alternative in giro e non penso proprio che il Milan che ha deciso di non tesserare alcuni giocatori anche interessanti a parametro zero per non pagare due commissioni adesso decida di pagare 14 milioni per un allenatore per liberarlo cioè a quel punto lì davvero poi bisogna andare a capire come funzionano il bilancio le robe e tutto ma paghi piuttosto lo stipendio di un top allenatore cioè non riesco a capire come il Milan per quello cioè a rigor di logica come possa mai essere una roba del genere poi se succederà mi stupirebbe ecco però la vedo molto dura per quanto secondo me lui era uno di quei nomi che mi piace perché poi ok non puoi prendere conto e non lo vuoi ci sta però andare a prendere per dire anche un Tiago Motta che secondo me io lo metto lì più o meno nella stessa casellina di De Zerby De Zerby ha l'esperienza internazionale dalla sua e anche un passato in rosso nero che quindi insomma ne fanno un profilo sicuramente molto gradito però Tiago Motta per dire è uno di quei giovani che la gavetta l'ha fatta che è in rampa di lancio che secondo me è arrivato al punto di secondo me dover andare in un top club a misurarsi o comunque in un club che deve riaffermarsi come il nostro perché non possiamo più dirci proprio top e potrebbe essere davvero lo step giusto per lui però si parla di Juventus che comunque ci ha lavorato da più tempo di noi perché noi stavamo pensando ancora di confermare Pioli come dice il buon Sacchi e quindi il discorso poi qual è io ho fatto la provocazione nello scorso video qualcuno mi ha fatto notare sì vabbè Steve dai dici che vuoi Conte e poi mi parli di Palladino io non è che parlo di Palladino così cioè semplicemente io dico nel momento in cui è ovvio che sono due cose molto diverse nel momento in cui però non puoi ambire un top allenatore a quel punto preferirei un allenatore perlomeno italiano che conosce il campionato e che sia giovane e che abbia dimostrato comunque di avere buone idee perché lui non ha fatto male con una squadra modesta e quindi potrebbe essere quell'idea che dice vabbè provo a costruire un futuro poi c'è chi mi dice magari Steve ma perché pensi che sia meglio a quel punto lui di Pioli allora c'ha ragione Sacchi teniamoci Pioli non ha fatto così male al Milan sì ma Pioli ci siamo detti tante volte è arrivato un po' a scarico è arrivato alla fine secondo me sia lui che il Milan hanno bisogno semplicemente di nuovi stimoli cioè qui non dobbiamo stare a paragonare il Pioli Prime col nuovo allenatore noi dobbiamo paragonare il momento e il momento in cui siamo arrivati è un momento di saturazione punto ma senza volerli male di nessuno ragazzi cioè quel discorso che tutti quelli che continuano a pontificare con questo discorso del percorso dello scudetto il Milan che giocava bene ha riportato il Milan dove sì l'ha fatto in passato oggi è oggi e oggi è ora di guardare anche avanti e non continuamente all'indietro questa è la mia opinione ragazzi vi aspetto nei commenti come sempre per parlarne insieme e mi raccomando scaricate l'app di socials.com e ragazzi buon relax buona giornata festiva rilassiamoci anche un po' in attesa di avere notizie su chi sarà il prossimo allenatore sulla panchina del Milan ciao a tutti grazie a tutti